buonasera a tutti oggi commentiamo una partita del torneo winning skill tra vittorio molè con le pedine bianche e tiberio boston rumeno con le pedine nere la partita è già iniziata abbastanza da poco vediamo che vittorio è in vantaggio in corsa ma molto ridotto ma soprattutto ha già portato quasi in salvo le i due runner quindi siamo in una situazione di direi una via di mezzo tra holding game e mutual holding game che però adesso si è spezzata perché vittorio ha scoperto una pedina è stato colpito è rientrato colpendo due pedine e quindi adesso non è più una situazione di holding game ma una posizione più complessa in cui entrambi colpiscono diciamo che il giocatore rumeno ha avuto la meglio in questo scambio adesso ragionevolmente in una situazione to go to double perché vittorio ha due pedine sul bar rientra con una pedina non so se avrei catturato se avrei colpito la pedina però va bene perché riesce a chiudere anche la quinta casa adesso diciamo che il nero ha ottime possibilità di gammon oltretutto il giocatore rumeno sta giocando in maniera praticamente perfetta pr 0 62 anche vittorio sta giocando bene ma sostanzialmente la maggior parte delle mosse la non le ha fatte perché era sul bar continua a non rientrare adesso il giocatore rumeno si scopre questo è un blunder perché ovviamente avendo vittorio due pedine sul bar avere la pedina sul 6 o sul 5 è esattamente la stessa cosa per cui invece avrebbe dovuto il giocatore rumeno tirare fuori una pedina da luna aumentando notevolmente le possibilità di gammon che però sono comunque elevatissime anzi diciamo che praticamente il gammon è cosa fatta è un bel giovane è un bel giovane qui c'è poco da commentare nel frattempo è stato aggiornato il PR con i risultati del cubo e entrambi i giocatori hanno peggiorato notevolmente perché quando c'è stato quello scambio molto veloce di colpi hanno missato entrambi vedete ad esempio qua avrebbe dovuto cubare vittorio in due occasioni anzi no questo era il giocatore rumeno che quindi sta giocando a PR10 perché adesso ha fatto un blunder io mi sono distratto vediamolo un attimo quindi 5-3 cosa ha fatto 5-3 ha giocato 24-16 duplicando il 4 ma in realtà sarebbe stato preferibile fare casa 3 vittorio ha sbagliato anche lui 3-6 poteva colpire non ha colpito è lo stesso errore direi probabilmente più una svista che un errore almeno nel mio caso era sicuramente una svista che mi è capitato in un match live contro Isacco Iba al circolo di Cagliari quindi adesso 6-5 per vittorio e qui allora il rumeno ha colpito due pedine è rientrato vittorio ugualmente rientra e colpisce e adesso è una decisione di cubo interessante perché vittorio ha tre case e ci sono parecchie pedine avversarie sotto tiro quindi probabilmente la posizione è too good to double penso che non cuberei e infatti vedete che il double è un blunder da 130 c'erano troppe possibilità quindi il gioco prosegue entrambi i giocatori stanno giocando abbastanza velocemente soprattutto il rumeno quindi 5-2 giustamente direi fa casa 11 vittorio 6-4 mi sembra una buona scelta doppio 2 qua direi che farei casa 4 e colpirei la pedina sul 7 altra possibilità fare il bar point ma mi piace di più una volta messa la pedina avversaria sul bar fare tre case interne sembra decisamente più costruttiva doppio 3 danza e qua c'è da decidere se cubare o se la posizione è too good probabilmente qui ci può stare il double e invece no anche qui era too good di 74 quindi siamo sul 2 pari ma vittorio ha diciamo sprecato due occasioni perlomeno no qui scenderei con le due pedine dal mid assolutamente infatti 13-11 13-10 4-2 deve colpire sicuramente 3-6 deve scappare senza esitazioni non ha altri 6 più costruttivi qui colpisce e copre la pedina sul 4 ottimo tiro 5 e copre casa 11 e 2-1 è interessante verrebbe da colpire entrambe le pedine ma il nero ha già tre case quindi la casa del nero è decisamente più forte però vittorio è indietro in corsa di parecchio e quindi il doppio hit è corretto qui per sua fortuna vittorio rientra e si ancora subito e qui è una scelta non facile se giocare 13-9 oppure 5-1 mettendo in salvo la pedina ma con scarse prospettive diciamo che la differenza era ridottissima 5 millesimi io sinceramente avrei giocato 13-9 portare la pedina sull'uno con già l'ancora dell'avversario sulla mia casa 4 sinceramente non mi piace avrei preferito rischiare allora adesso il giocatore rumeno dopo il tiro 27 pip di vantaggio quindi la posizione di vittorio è abbastanza difficile oltretutto le due pedine sull'uno sono una disgrazia direi passatemi il termine qui si andrei sul 9 non vedo niente di molto meglio qui farei casa 3 9 4 9 4 probabilmente giocherei 8 6 8 2 8 6 8 13 7 questa non mi piace tantissimo anche se non la considera corretta 8 6 8 2 pagava 20 millesimi diciamo che adesso comunque non è facile per il giocatore rumeno portare avanti le sue perine qui sicuramente fare casa 9 mi sembra un'ottima scelta non ci penserei neanche un attimo questa mi piace di meno vediamo era corretta infatti fare casa 9 questo è un errore da 67 65 è vero che isacco vittorio indietro in corsa però ha fatto bene a scappare con le due perine perché adesso ha un pieno controllo dell'outfield qui non so penso che farei casa 5 anche rischio di essere di essere colpito con qualche indiretto no questa questa assolutamente non mi piace non c'è motivo per togliere la smontare la casa 8 7 5 2 era la mossa corretta qui il giocatore rumeno è avanti in corsa di 11 prima del tiro però alle pedine arretrate che dovranno che dovranno passare per il fuoco di sbarramento delle delle pedine sul midpoint e sulla casa 14 questo cubo mi sembra decisamente prematuro da parte di vittorio non avrei mai cubato anche se l'avversario ha dovuto un po smontare la sua casa interna però è troppo indietro in corsa per cubare a mio avviso infatti il double è un blunder è un blunder da 236 sinceramente non ho capito la decisione di vittorio che però tira un prodigioso 66 dopo di che va in leggero vantaggio in corsa 4 4 è un ottimo tiro a questo punto il vantaggio in corsa di vittorio è decisamente consistente no qui giocherei 7 2 6 2 assolutamente portare un'altra pedina sulla casa 3 è ovviamente un errore grosso 4 2 deve uscire dal 6 non c'è altra possibilità doppio 5 sicuramente aiuta anche se anche il doppio 2 del giocatore rumeno non è male siamo 7 pedine contro 7 ma vittorio al tiro per cui ha un tiro di vantaggio sostanzialmente anche di più perché le pedine del nero sono arretrate e vittorio si aggiudica i due punti quindi 4 a 2 per lui doppio 4 ottimo tiro colpirei sulla casa 16 e farei casa 2 casa 5 senza esitazione il giocatore rumeno si ancora qui farei casa 11 adesso vittorio ha un vantaggio in corsa di 23 probabilmente però è prematuro il double perché ha ancora quella pedina arretrata ma ci siamo molto vicini adesso deve giocare 11 6 sicuramente con le due pedine no questa non ha alcun senso infatti è un blunder non capisco come possano venire in mente a vittorio queste mosse vedete infatti 13 8 2 11 6 2 che è la mossa normale che si gioca senza pensare qui l'avversario ha colpito sull'uno qui sinceramente io avrei cubato al posto di vittorio e anche qui penso che cuberei e anche qui penso che cuberei 20 16 lo più 2 si deve fare assolutamente casa 9 invece no 8 4 si l'ho vista ma mi sembrava un po' rischiosa perché lasciava un po' di di pedine scoperte un po' di blot differenza comunque 27 millesimi quindi molto molto poco ecco vittorio ha colpito qui si penso che giocherei questa che mi sembra più costruttiva di 13 8 o di questa che proprio non giocherei mentre invece no sembrerebbe corretta 23 18 16 13 qui ci siamo persi il cubo di vittorio è un pass un attimino prematuro da parte dell'avversario vedete era addirittura un leggerissimo no double e il pass era un blunder da 324 diciamo che entrambi i giocatori stanno giocando a PR oltre il 10 qui penso che scapperei dalla casa 22 non so se sia la mossa migliore forse è preferibile 13 9 13 8 non lo so è una scelta con quelle posizioni in cui non riesco a orientarmi correttamente quindi 22 13 era un blunder da 122 questa non capisco perché abbia lasciato il blot sul midpoint però GNU lo dà come mossa corretta strano forse non ho guardato attentamente però non l'ho proprio capita qui vittorio deve cercare di contenere la pedina lo straggler del nero qui sceglie di colpire questa mi sembra preferibile no invece è un blunder avrebbe dovuto colpire qua riesce a colpire tiro fortunato l'avversario danza e adesso è in vantaggio in corsa però la pedina lo straggler di vittorio ha bisogno di un 6 non so probabilmente poteva essere un double anche adesso ha un'enormità di tiri molto buoni vittorio adesso Cuba e l'avversario passa vediamo che cosa dice GNU il double è corretto ed era corretto anche alla mossa precedente era un double pass quindi vittorio ha missato il double alla mossa precedente intanto c'è da dire che il giocatore rumeno ha continuato a giocare molto velocemente ha consumato soltanto un minuto sinora mentre vittorio ha consumato più di 7 minuti però d'altra parte è già è già arrivato a 6 quindi insomma potrebbe riuscire a gestire il tempo senza grossi problemi 6-5 non è un gran tiro io qui colpirei la pedina sul 3 perché altrimenti l'avversario ha dei tiri buoni 4-6 l'avversario danza però sul 6-2 sicuramente è presto per cubare danza ancora ancora non cuberei qui giocherei 24-18 13-11 qui assolutamente presto per cubare 18-11 senza esitazioni 5-2 non è un gran tiro per tiberiu 13 pip di vantaggio per vittorio che ha una casa più forte anche qua è troppo presto sul 6-2 cubare secondo me perché lo straggler ancora va portato a casa quindi non avrei cubato doppio 3 però è un ottimo tiro sicuramente avrei fatto casa 5 e probabilmente casa 8 sì invece no vediamo ecco questo lo sbaglio sempre doveva fare lo switch dal 4 all'1 sì assolutamente correttissimo lo sbaglio sempre invece è interessante il fatto che il double fosse corretto molto interessante complimenti vittorio adesso ha creato un prime da 6 che però deve smontare molto rapidamente ma colpire va assolutamente benissimo io sarei venuto ancora avanti sul 18 invece no sbagliata era corretta quella che stava giocando era mossa più safe 2-1 ripristina il prime da 6 ecco questo è un po' seccante perché il fatto che abbia una casa abbastanza forte il nero rende più complicato per per vittorio colpire colpire la pedina doppio 1 farei casa 7 5-1 ottimo chiude la tavola però le possibilità di gammon non sono tantissime poi dopo che rientra adesso possibilità sono ancora minori sicuramente 5-4 vabbè 6-1 4 off è sicura ha tirato un 1 tiro sfortunatissimo di vittorio che però non viene colpito e quindi porta a casa altri due punti e quindi arriva sicuramente sull'8-2 ah c'è ancora anche qualche possibilità di gammon deve tirare un doppio non lo tira e quindi va bene 8-2 8-2 gli rimangono 4 minuti e mezzo deve stare un po' attento al tempo 6-4 sicuramente deve fare casa 2 l'avversario danza ottima notizia 2 case casa 5 e casa 3 non c'è alcun dubbio l'avversario danza ancora 4-3 tiro fortunatissimo che ancora sulla casa 4 di vittorio adesso la partita è abbastanza equilibrata perché il nero ha un'ottima ancora sulla casa 4 sulla casa 21 ma vittorio è avanti in corsa e ha la casa interna più forte qui giocherei 24-23 11-6 qui deve sperare di tirare un 6 o un 1 li tira entrambi ottimo tiro di vittoria adesso ha duplicato anche il 4 qui c'era da prendere in considerazione il double a mio avviso adesso invece no perché è riuscito a costruire Tiberio una parvenza di bad game quindi non cuberei qui direi 13-6 non vedo molto altro 13-8 questa mi sembra semplicemente folle non l'ho proprio capita infatti è un blunder probabilmente è una svista blunder da 229 adesso 4-1 che stavolta l'ho vista vittorio ecco qui interessante io cuberei tiro è uno dei peggiori che avesse vittorio sì penso proprio che debba giocare 8-3 5-2 non vedo di meglio 5-4 invece è molto buono qui secondo me il double ci sta tutto adesso ha assolutamente perso il mercato probabilmente era un pass anche prima e infatti vedo tutta una serie di punti esclamativi allora quest'ultimo era un too good tiro precedente era appunto un double pass blunder da 100 e passa qui c'è ugualmente un altro missed vediamo se è quando qui luck anche questo era un double take infatti quando ho detto io qui penserei seriamente al cubo vabbè andiamo avanti quindi vittorio si è portato sul 9-2 con 4 minuti sull'orologio sta giocando vittorio a 10 e 6 e tiberio a 7 e 6 però conduce vittorio nettamente per 9-2 sì qui andrei assolutamente sull'11 perché tanto i tiri che colpiscono sono esattamente gli stessi che rimanendo sul 13 però è un blunder che cosa avrebbe dovuto giocare vediamo un attimo 24 22 13 8 sì non in effetti non ho guardato l'altro lato della scacchiera ma della tavola scusate è un lapsus freudiano sì era assolutamente preferibile 6 4 ha un vantaggio in corsa di 32 vittorio qui è una scelta non agevole perché potrebbe scappare che potrebbe essere la scelta migliore infatti 21 11 la mossa che ha giocato vittorio è un blunder da 434 allora a questo punto lui ha un prime molto forte e deve assolutamente scappare adesso è riuscito a chiudere la quinta casa ha la possibilità di scappare ancora sta pensando di cubare poteva essere rischioso il cubo sì e porterei le piedine sul 2 non lascerei il tiro diretto all'avversario corretta assolutamente 5-3 colpisce senza esitazioni a questo punto è too good però questo doppio 4 è un tiro direi disastroso e qui c'è poco da fare deve giocare 5-1 qui non ha pensato minimamente al cubo tiberio adesso colpisce doppio 4 eccezionale di vittorio doppio 4 pessimo invece di tiberio colpisce ancora giocherei 9-8 4-2 6-5 qui colpisce e va avanti posizione nettamente too good perché le possibilità di gammon sono elevatissime 3-2 non è un grandissimo tiro per il gammon no l'uno deve assolutamente andare sulla casa 6 è un blunder molto grosso però strano invece non viene segnalato come errore diciamo che il gammon sembra cosa fatta per cui vittorio si porta sull'11-2 con quasi 3 minuti di tempo sull'orologio 3-2 24 21 13 11 assolutamente questo soprattutto su questo punteggio è una mossa folle infatti vedete che è un blunder non ha proprio alcun senso ah è invece interessante e questo lo sapevo ma me lo dimentico sempre la mossa preferibile non è 24 21 13 11 ma 24 22 13 10 differenza ridottissima 3 millesimi però è sintomatico che me lo dimentico sempre eccezionale il doppio 6 di vittorio qui non so se questa o colpire sul 2 avrei preferito probabilmente colpire sul 2 infatti era la mossa corretta anche perché gli si aprivano tantissime possibilità di Gaemon adesso invece ha danzato e l'avversario Cuba ci sono due pedine che possono essere colpite e infatti sarebbe stato un pass il take di vittorio un blunder da 220 su questo punteggio qui è in piena fase di blitz tiberio vittorio non riesce a rientrare tiberio libera anche il suo straggler colpisce la terza pedina per cui diciamo che il Gaemon è estremamente probabile per cui si riporta all'incirca in partita quindi dovrebbe arrivare sull'11-6 però è ancora molto molto in salita il match per lui doppio 4 diciamo che si apre qualche spiraglio per salvare il Gaemon si chiude rapidamente adesso vittorio deve solo preoccuparsi di evitare il vabbè il backgammon lo evita facilmente però possibilità di evitare il Gaemon sono praticamente nulle forse con due doppi 6 di fila probabilmente non bastano neanche due doppi 6 intanto diamo uno sguardo al PR vittorio sta giocando a 13 e Tiberio a 6 e 6 quindi diciamo che Tiberio si dovrebbe aggiudicare il punto per il PR e il vittorio è favorito invece per il punto della vittoria nel match 6 5 ok scappa adesso vittorio ha un'ottima posizione ottimo tiro che gli permette di fare l'importantissima casa 9 5 5 3 colpirei senza esitazioni anche perché il gammon è assolutamente molto importante qui probabilmente posizione non so se se sia to good io probabilmente avrei cubato al posto di vittorio adesso no direi che è too good anche se questo doppio 6 è molto sfortunato non so probabilmente avrei giocato 7 4 invece no la mossa di vittorio sembrerebbe corretta 7 4 3 2 differenza di 13 millesimi comunque ha risolto il problema delle pedine sul bar point che erano un po' tante però 6 2 scopre una pedina deve sperare di non essere colpito si salva almeno per questo giro 5 2 ancora deve soffrire si salva ancora qui sto pensando se se sia too good o se invece vittorio debba cubare una scelta difficile adesso assolutamente è too good doppio 6 eccezionale e si dovrebbe chiudere se non tira un 2 1 con un gammon di vittorio sta prendendo la mira e ok vince per 13 6 quindi pr di vittorio 12 pr dell'avversario 6 e 6 quindi un punto a testa un punto a vittorio per la vittoria nel match e un punto a tiberio per la vittoria nel pr direi che qua è tutto grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima